Chiusa la partita delle regionali, da oggi si guarda le prossime elezioni amministrative a Pescara. Dopo il diktat di Salvini che ha detto a chiare note di voler esprimere un proprio candidato per il nome del nuovo sindaco, Forza Italia parla invece di un candidato che arrivi da una scelta pienamente condivisa da tutti i partiti del centrodestra. Sono tanti anni, oramai cinque quasi, che noi contestiamo questa amministrazione che sicuramente non si è distinta per opere e per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini pescaresi. Sanno perfettamente il sindaco e la sua giunta che a maggio avranno uno scoglio troppo duro da superare perché i cittadini pescaresi li aspettano al varco, Aspetto al varco un sindaco che è stato molto assente, un'amministrazione che non ha dato alcuna risposta rispetto alle problematiche che questa città aveva. Mi auguro che il risultato che c'è stato in Regione sia un buon viatico per Pescara, dove la coalizione di centrodestra sono certo si presenterà unita e vincente per rilanciare l'amministrazione in questa città. La coalizione intelligentemente sceglierà il miglior candidato sindaco a prescindere dal partito perché oggi a Pescara sappiamo di dover vincere e di dover dare le giuste risposte che i cittadini pescaresi si aspettano. Il neoconsigliere regionale della Lega Vincenzo Dincecco spiega che al di là dei nomi la priorità è rappresentata dai progetti per far rinascere il capoluogo adriatico. Mi pare giusto che la Lega dopo questo grande risultato sia considerata come il centro e il fulcro di tutta l'area di centrodestra. Sono altrettanto convinto che adesso bisogna iniziare a parlare di quelle che sono le cose che vanno fatte per la città di Pescara. Quindi in questo momento per me è prioritario discutere sui temi. Questa è una città che ha bisogno di andare a vivere normalmente, ha bisogno di avere un sindaco e un'amministrazione capace di riportare al centro le priorità, cosa che non è stata fatta negli cinque anni precedenti. A me personalmente interessa molto discutere di quelli che sono i principi che dovranno caratterizzare i prossimi cinque anni. Su questo io lavorerò in questi giorni, in queste settimane insieme al partito e poi sui nomi si vedrà insieme anche agli altri alleati quale sarà la scelta migliore per il territorio.